Ciao a tutti ragazzi, sono qui per l'apertura della casella successiva oggi apriamo la casella numero 5, ieri ho aperto la 4 e oggi apriamo la casella numero 5 ed eccola qua ecco qua giorno numero 5, si tratta di questa sorta di rete, di porta di ok e assieme a questo è uscito questo piccolo trofeo dorato, eccolo qui, molto bello adesso andiamo a metterlo sul lato di occhi bene questo è tutto, noi ci vediamo domani con l'apertura della casella successiva oggi abbiamo aperto la 5 e domani apriremo la numero 6 ciao a tutti, ci vediamo a domani